Sono partita dal figurativo, poi lentamente ho cambiato e sono andata verso altre ricerche. Abbiamo creato questo gruppo, come lo chiamiamo? Ci siamo riunite, ognuno diceva la sua e allora abbiamo pensato di dire che era una dialettica. Io ho conosciuto un po' tutti, ma io a un dato momento pensavo per conto mio e facevo quello che volevo. Celebriamo il centenario dalla nascita di questa grande artista, il cui lavoro di ricerca e sperimentazione è ancora oggi vivo e in movimento. Un viaggio artistico, con l'obiettivo di raccontare un percorso antologico in modo unico e suggestivo.